Nessuna attenzione verso il territorio e le famiglie. La Giunta Brucchi sta pensando solo a mantenere gli equilibri della sua maggioranza. Così il capogruppo del Partito Democratico, Manola Di Pasquale, attacca la Giunta Brucchi a cinque mesi dal nuovo mandato. Questa amministrazione nei primi mesi di Atteramo non ha dimostrato di essere capace ad amministrare, ma soprattutto di pensare esclusivamente agli equilibri politici della maggioranza che governa a discapito della città, ma soprattutto delle famiglie, perché le prime cose più importanti fatte in questo inizio di amministrazione riguardano sicuramente l'applicazione della Tasi e il fatto di non aver previsto delle detrazioni per figlio, cosicché oggi questa tassa sarà più alta rispetto all'Imu del 2012 per le famiglie più numerose. Così come può essere seguito un aumento molto evidente della menza delle scuole e del pulmino e questo dimostra proprio come non vi è un minimo di attenzione verso il territorio che anzi è in difficoltà, sia per il numero di disoccupati, per aziende che chiudono, che sia riconvogli dalle famiglie dove c'è necessità che entrambi i genitori debbano lavorare perché non si riesce sennò a dare una risposta ai problemi della famiglia. L'amministrazione Brucchi dimentica tutto questo perché deve solamente mantenere di equilibri la sua maggioranza. Ha fatto dettagli degli aumenti ma non ha mai diminuito il numero dei suoi assessori e ne ha provveduto ad eliminare le indennità agli assessori e al presidente del Consiglio a se stesso.